E' stata presentata al base di Milano la Milano Music Week 2023 che dal 20 al 26 novembre prossimi vedrà la città di Milano invasa da grandi eventi musicali. Promossa dal Comune di Milano Assessorato alla Cultura, Asso Concerti, Asso Musica, Fimi, Nuovo Imaie e Siae col patrocino del Ministero della Cultura, la Milano Music Week è stata presentata alla stampa con la partecipazione tra gli altri di Noura Alabash curatrice della manifestazione con la partecipazione speciale di Francesca Michielin, Carlo Parodi presidente di Asso Musica, Bruno Sconocchia presidente di Asso Concerti, l'assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e Paolo Franchini consigliere di gestione di Siae. Numerose le location coinvolte in tutta Milano come Mare Culturale Urbano, Santeria Toscana 31, Spirit de Milan, Hard Rock Café Milano, la Apple di Piazza Liberty e l'Arci Bellezza. Oltre agli eventi live che vedranno avvicentarsi, oltre che la stessa Michielin, artisti del calibro di Manuel Agnelli, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Neffa, CCCP, Fedeli alla Linea, Motta e tanti altri, diversi saranno gli incontri, i dibattiti, i panel sul music business, talk con gli artisti, workshop, DJ sets, showcase, party e interventi di grandi protagonisti dell'industria di settore, tra cui spicca in modo particolare quello di Lyor Cohen, Global Head of Music di YouTube. Il legame indissolubile tra la città di Milano e la musica è stato sottolineato anche da un messaggio del sindaco Giuseppe Sala, che ha dichiarato Il legame di Milano con la musica è forte e radicato nel tempo, dalla lirica alla musica classica, dalla leggera a quella pop, al rock, al rap. Non c'è genere musicale che non abbia trovato nella nostra città il luogo adatto in cui svilupparsi e farsi conoscere al grande pubblico, qualsiasi momento storico si voglia considerare. Sono certo che la Milano Music Week celebrerà anche quest'anno questo rapporto speciale, valorizzando musicisti, interpreti e tutte le professionalità del mondo dell'industria musicale, attraverso incontri, dibattiti e riflessioni coinvolgenti. Durante la conferenza stampo, un momento di commozione ha unito il presidente di Asso Musica Carlo Parodi, il presidente di Asso Concerti Bruno Sconocchia e la direttrice artistica Noura Alabash, nel ricordo di Vincenzo Spera, l'ex presidente di Asso Musica, scomparso tragicamente lo scorso marzo, annunciando la Sala Spera, sala a lui dedicata, all'interno di Casa Milano Music Week, in Tonneria Tortona, via Tortona 32. Oltre al base, che sarà uno dei punti di riferimento della manifestazione, un altro punto nevralgico degli eventi sarà appunto Tonneria Tortona, che ospiterà i principali panel sul music business e ospiterà anche un'area co-working con uno spazio dedicato a RTL 125, radio ufficiale della manifestazione, che trasmetterà in diretta le feste di apertura e di chiusura. Allora non resta che godersi tutti gli eventi in programma. Buona musica e buona Milano Music Week a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!